Ciao a tutti, bentornati alle mie recensioni. Questa settimana parliamo di un gioco per PlayStation Vita che si chiama Freedom Wars. Non l'ho comprato, l'ho ottenuto col Plus, l'avevo scaricato perché mi incuriosiva l'ambientazione in quanto una distopia futuristica in cui città-stato combattono tra di loro per le pochissime risorse disponibili in cui l'essere nati, l'essere vivi, è di per sé stesso un crimine condannato a, vado a memoria, un milione di anni di carcere in cui è possibile scalarli facendo determinate azioni che fondamentalmente consistono nel sottrarre risorse alle città vicine e sottrarre, anche rapire, quelli che vengono chiamati cittadini, ossia le persone utili a progresso. Potremmo immaginare che possono essere medici, ingegneri o cose del genere. Noi non siamo uno di loro, anzi, al momento dell'inizio della storia abbiamo perso la memoria che è considerato un crimine gravissimo in quanto viene cancellato tutto quello che è stato l'investimento per addestrarci a quello che è il nostro compito appunto di sottrarre risorse ai nemici. Si ricomincia quindi dal livello più basso del prigioniero, un livello in cui non è neanche permesso sedersi o sdraiarsi senza avere aumenti di pena, della nostra pena, e man mano che si fanno missioni e si passa ai livelli successivi dove si ottengono sempre più maggiori agi, fin quando eventualmente superati, scalati tutta la nostra pena residua, si diventa liberi. All'interno c'è anche una sottotrama in cui, senza dire niente, sembra che veniamo in contatto con un'entità misteriosa, almeno all'inizio, in cui ci afferma, tanto per cambiare, per viva la fantasia, noi siamo prescelti per fare qualcosa. Cosa, se volete giocarlo, lo vedete voi. Il gioco era stato presentato come la risposta di Sony al Monster Hunter di Nintendo, almeno io avevo avuto questa notizia. Il problema è che il gioco è estremamente difficile, ma in senso punitivo. In parale povere, bara. Viene messo, allora, viene messo, si viene messo in condizioni di incredibile svantaggio rispetto al... Allora, in premessa, due squadre nemiche si incontrano su una mappa, devono recuperare le risorse disponibili. Oppure, si deve andare a impedire il rapimento della politica. Quando si comincia, noi siamo in posizione estremamente svantaggiata, nemica estremamente vantaggiosa. Non solo, quindi, intanto bara da questo punto di vista, nel senso... E non solo, tende a essere incredibilmente noioso, perché è ripetitivo, altro problema grosso notevole. Come è stato per Monster Hunter? Probabilmente il gioco è stato pensato esclusivamente per il multiplayer, anche se è possibile giocare a single player. Io ho provato a giocarlo a single player. Però, anche in questo caso, forse si può limare la punitività del gioco, ma sicuramente non la noia. Ed è un peccato, perché l'idea di base della distopia è carina. Graficamente è molto piacevole e ha anche delle bellissime musiche. Il personaggio con primario principale, se mi passate questo volo pindarico, è anche molto interessante e ben sfaccettata. Diciamo il nostro mentore, per capirci bene, è molto interessante. Però tutto questo non va a colmare quello che sono i due difetti che vi ho detto, soprattutto che è incredibilmente noioso. Infatti dopo un po' io l'ho mollato e ho detto basta. Non ho idea di come vado a finire, non ho idea di cosa dovremmo essere stati prescelti, non ho idea. Il mio avviso, se ce l'avete col plus e volete farvi del male, provatelo, ma non ne vale la pena neanche in quel caso. Infatti per me il voto è un 4,5 utilizzo risicato, giusto perché è molto piacevole come grafica e molto piacevole come musica. Detto questo, facilmente dimenticabile e si va avanti. Ci sono sicuramente altri giochi che meritano la nostra attenzione molto più di questo. E con questo vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!